Un punto meritato, avete fatto una buona partita, complimenti. Sì, sì, penso assolutamente meritato, perché la squadra è sempre stata in partita, è partita bene all'inizio, abbiamo sofferto nella fase centrale del primo tempo, poi dopo la partita si è riequilibrata, al secondo tempo direi che è stata tutto sommato equilibrata ed è chiaro averla recuperata è un segnale molto importante, perché dopo l'1-0 del Pescara la squadra ha avuto una bellissima reazione, non solo il gol ma altre situazioni molto anche direi dubbie in area di rigore, quanto mi dicono i ragazzi, però un risultato secondo me meritato, ha fatto veramente una bella partita, quindi complimenti ai ragazzi perché era una giornata importante per il nostro campionato e su un campo molto molto difficile contro un avversario che veniva da un momento estremamente favorevole, quindi grande merito ai miei ragazzi. Lei ha centrato proprio, ha fotografato in maniera perfetta a mio giudizio la partita e vorrei proprio sottolineare l'ottima reazione dopo il gol del vantaggio di Clemenza, perché lì magari maggiore tasso tecnico del Pescara, vi dovevate sbottonare, potevate prendere tante ripartenze, invece avete messo il Pescara all'interno della tre quarti biancazzurra. Sì, la squadra è stata brava perché ha capito che era il momento di ritrovare un po' di tranquillità perché è chiaro che il gol ti può un po' scombinare un po' il momento della partita dal punto di vista anche psicologico, invece la squadra è rimasta tranquilla ed è chiaro che l'avremmo forzata poi strada facendo perché era ovvio che fosse così, però pur rimanendo sulla stessa formazione con lo stesso modulo ha iniziato a creare problemi all'avversario e c'era già riuscito prima del pari, quindi grande merito va alla squadra, ripeto, perché ci ha sempre creduto, perché è stata in partita, perché non si è disunita, perché ha avuto una bella reazione e direi che poi è arrivato questo pari che è assolutamente meritato. Le chiedo un'ultima cosa, dopo il pronti via con Regoli e Serena che avevano sfiorato in due circostanze il vantaggio, il Pescara per 20-25 minuti vi ha messo in difficoltà. Dove siete stati bravi a riequilibrare la partita dal punto di vista tattico? Beh, come sempre secondo me poi basta alleggerire un po' l'offensiva dell'avversario, perché a volte basta un episodio per riequilibrarla un po' la partita. Dal punto di vista tattico direi che tante cose non ci sono state, però se te poi dopo riesci a ripartire, se te poi dopo fai vedere all'avversario che comunque sei rientrato in partita e hai superato il momento negativo, secondo me la partita si riequilibra. Ecco, secondo me è andata così perché direi che nel finale del primo tempo la squadra è uscita fuori, ha ricreato qualche situazione e quindi anche l'avversario perde un po' quello smalto che ha avuto nella fase centrale. Anche se c'è da dire che insomma anche lì davanti abbiamo cambiato qualcosa perché alla parte sinistra del Pescara secondo me ci stavano dando qualche problema, allora abbiamo cercato di indirizzare un po' meglio le azioni della parte opposta e in quel modo secondo me Pescara ha perso un po' di equilibrio. Un discorso tante può essere quello, però nella tattica io credo sia sempre un po' l'atteggiamento e credo molto in questo aspetto, quindi evidentemente la squadra ha passato quel momento, ha saputo reagire bene, è venuta fuori poi dopo e ripeto, andiamo via con un punto molto importante e molto meritato da parte dei ragazzi.